Oggi Nova, il famoso Nova, proprio lui, mi ha aiutato, quindi siamo accordati che per i prossimi tre giorni non dissero Nova dicendo che non lavora, perché oggi mi ha aiutato a fare delle cose. Mi è ripassato la Fabric, così da poter mettere qualche mod, e abbiamo finalmente un po' di mod come per esempio la gamma attiva o disattivata, così posso decidere quando avere la full bright, quindi vedere tutto sempre luminoso oppure no. Mi ha passato un'altra mod dove gli achievements sono effettivamente un po' più a schermo intero, perché altrimenti buon divertimento vederli tutti, e cosa più importante, mi ha passato questa mod. Tic, che ordine in automatico l'inventario, ma non mi ricordo come si chiama, ve lo dirò, anzi, ti lascio il nome qua su YouTube. Ah, comunque, guardate, oggi mentre ero AFK, ho guadagnato questo achievement, passato un anno intero di Minecraft, di giorni minecraftiani, evviva ragazzi, buon anno a tutti. Amici del Kdkskal, come state ragazzi? Tutto bene? Sì, in realtà non mi serviva andare al Kdkskal oggi, quindi non andiamo, lo so Tommaso, volevi lavorare. Oggi pausa, dai, oggi ti faccio riposare un pochino. Vediamo anche la nostra umilissima farm di miele. Che un pochino sta facendo, considerando che non sono mai qua in questa zona, quindi non è mai attivo sto chunk. Allora, oggi ho deciso di fare un auto miner. Iniziamo a preparare la shulker per fare l'auto miner, come suggerisce il nome. Minerà in automatico i blocchi, utilizzando un congegno un po' particolare con la TNT. Riempiamo questo, questo. E lui è nuovo. Attenzione, visto che abbiamo una name tag, Gianfilippo, che non mi ricordo per chi fosse. E quindi la diamo a lui. Benvenuto tra noi, Gianfilippo. Il corallo ci serve? Assolutamente sì. Meno male che li abbiamo. Allora, di coralli, vi avete detto voi che va bene qualsiasi corallo di quelli bassi. Quindi vanno bene tutti questi qua. Torniamo questi che ne abbiamo sei. Detector rail ci servono. Ci servono degli ancient debris. Per fortuna ne abbiamo un bel po'. Fai nel nether o nell'overworld? Perché nel nether con tutti i fiumi di lava dovremmo interromperlo in 3x2. Magari lo facciamo anche lì o al massimo succede. Arriva la lava, sti cazzi. Riprendiamo gli ancient debris, tutto il resto può bruciare per quanto riguarda. Gli slime li abbiamo. Questa potrebbe servirci qualche honey block. E quindi andiamo a prenderlo, ora che finalmente li abbiamo. Se non sbaglio si fanno così. Esatto. E abbiamo di nuovo le bottigliette, quindi le rimettiamo qua dentro. Questi bene o male sono tutti i materiali che ci servono. Giusto, mi sono ricordato adesso i note block ci servono. Che poi, vabbè, potevamo farli anche lì. Tanto serve legna e redstone. Intanto decidiamo a che livello minare. Io direi, tipo qua inizia la deep slate e qua siamo ad altezza 7. Io direi di andare così. Perché così a questa altezza possiamo trovare sia i minerali nella pietra, sia quelli nella deep slate. E noi nella deep slate ci serve il carbone, che è molto raro. Allora, facciamo una stanzetta nel frattempo. Non sono stato a farmi il beacon, perché non trovo onestamente necessario un beacon per scavare questa pietra. 0,5 diamanti nella stone. Ah sì? Andiamo più giù, ragazzi. Quindi direi che a 3. Dai, scaviamo a 3. Facciamola qua, la stanza. Tic, tuc, tac, tic. Iniziamo a prendere ciò che ci serve. Partiamo con observer. Abbiate pietà se guardo, però è abbastanza difficile andare a memoria in questo momento. Sto guardando intanto delle foto che ho fatto a qualità orribile. La mod degli achievements, la mod degli achievements si chiama Blades and Caves. E non è una mod, è un data pack. Quindi non serve installare roba moddata. Qua è dove andremo a metterci il carrello. Quindi prendiamo tutto quello che ci serve. Questo qua, questo qua, il carrello. Poi prendiamo questo. 1, 2. Qui ci andrà il pistone. Tac. Carrello. Lo attiviamo. Muretto. Ok. Ho fatto un achievement, bellissimo. Observer. Non lo so se va in questa direzione, spero di sì. Al massimo esplodiamo. Qua sopra il corallo. E qua ci mettiamo lo slime. Sopra ci mettiamo la slab. E adesso vogliamo fare quello che abbiamo fatto prima. Secondo me se metto la TNT prima espl... Vabbè, no. Forse no. Scopriamolo. 1, 2. Carrellino. Qui. Ah! Non sono esploso. Dovrebbe essere tipo l'Arospa fatto su Pandora? No. Una roba muddata, un po' particolare. Dovrebbe essere un pistone normale qua. E uno appiccicoso qua. Poi ci abbiamo un observer. Pezze funziona. Tranquilli. Funziona al 100%. Cosa potrebbe mai andare storto? Poi ci mette Ogli Ancient Debris. Perché i triti antichi? Allora, perché si utilizza Ogli Ancient Debris? Perché sono l'unico blocco che è sia immune alle esplosioni, quindi non esplode con le TNT, ma allo stesso tempo puoi spostare con i pistoni. A contrario, per esempio, dell'ossidiana. Per questo si utilizzano questi. Sono un ottimo blocco, ragazzi. Per permettere l'autominer. Adesso c'è la parte tutta dell'attivazione. Da che lato lo facciamo? Facciamolo di qua, dai. La handstone non è uguale. La handstone non è immune alle esplosioni, la handstone. Che io sappia. Solo blaster esiste in più alta della stone. Allora, no, infatti, ma non l'avrebbero fatto con sto coso, ragazzi. Andiamo di logica, scusate. Ok. Serve un pistone qua. Qui sotto c'erano due slime e qua ci va un observer. La direzione è quella giusta. Dobbiamo fare un'altra parte qua di lato. Lo so che vi sta scoppiando la testa, ma tranquilli, è così anche per me. È che è la prima volta che lo faccio ed è difficile da imparare memoria sto macchinario. Poi magari è un fail assurdo, eh, per carità. Magari poi si fallisce, io non lo metto in dubbio questo. Ragazzi, è ora della verità. Bisogna vedere se sto abominio funziona oppure no. Se non funziona, rido e piango allo stesso tempo. Allora, bene questo, ma manca un pezzo, mi sa. Forse questo era un pistone appiccicoso. Potrebbe essere che era un pistone appiccicoso quello, non uno normale. Immaginatevi sbagliare per questa cosa. Una Nintendo Switch. Se nel mondo esistesse un po' di bene e ognun si ossiderasse suo fratello ci sarebbe meno pensieri e meno bene. Il mondo ne sarebbe assai più bello. Grazie, che bella poesia. Ma ora siamo anche accortati. Qui abbiamo un observer, o le, che è girato nel lato giusto. Perfetto. Un observer che guarda verso il basso perché piange, come me tra poco. E un note block. Un altro observer che guarda in là questa volta, con un bel pezzo di pietra qua dietro. Altro pistone appiccicoso con sopra questa merda. E in teoria abbiamo fatto, signori, qua la nostra sedia. Questa ovviamente è la nostra sedia. E in teoria dobbiamo andare. Cosa madonna è successo? Che non c'era questo. E ragazzi, vedete? Fare cose alla cazzo di cane, succede questo. E qua ci va un observer dall'altro lato. Ok, fino a qua ci siamo in realtà. Qua posso mettere del miela. Dobbiamo metterli sotto. Questo. E noi in teoria abbiamo fatto, ragazzi. Oddio! Ci abbiamo fatta! Ah, che goduria. Che goduria, signori! Bene, bene. Non saprò mai se il problema era questo o era il blocco cotto. Secondo me era il blocco che ho tolto sotto, eh. Perché c'era un blocco in più e quindi poteva essere il limite di push del pistone. Perché il pistone spinge 12 blocchi. Secondo me... Adesso però, come vedete, c'è un problema. Perché se noi andiamo avanti così all'infinito, poi questo pezzo qua si distrugge. Quindi adesso devo semplicemente rifarlo però dall'altro lato. Rompiamo qui e rifacciamo lo stesso macchinario da questo lato. Così abbiamo due pareti che verranno distrutte. Perché questa cosa? Perché a noi piace complicarci la vita. I diamanti non esplodono, allora sì. Però essendo che va avanti di un blocco alla volta, non potrà essere automatico, ovviamente. Lui va avanti di un blocco alla volta, di conseguenza siamo noi ad attivarlo. Quindi quando gli andiamo ai diamanti ci fermiamo e rompiamo. Vedete, Fieric, vabbè, ma uno fa prima a scavare. Avete assolutamente ragione. Ma immaginate fare una sfilze tipo di 20 macchinari. Che ogni volta che vai a un blocco, boom, ti apre un'area gigantesca di parete ogni blocco. Capito qual è il concetto? Da solo fa cagare, ovviamente. Da solo è totalmente inutile, fai prima a scavare. Quindi adesso già stiamo facendo il secondo. Poi magari imparando possiamo fare il terzo. L'importante, se non sbaglio, è che macchine siano almeno 6 blocchi di distanza. Perché altrimenti vanno in contrasto. La lava, ecco, la lava è il motivo per il quale non la si fa nel nether. Cioè potete farlo anche nel nether, preparate che ci sarà la lava. 1, 2, 3, 4, 5, 6. In teoria qua dovremmo farlo. Adesso ci basta copiare, ci mettiamo sopra sto cesso. Qua possiamo continuare col miele a sto punto. Usiamo, facciamo una roba abbastanza uniforme. E abbiamo fatto. Adesso ovviamente ci manca il carrello. Se unisce avanza insieme, infatti l'ho unita. Per questo ho detto, una macchina autominder è totalmente inutile da sola. Fate prima con un qualsiasi piccone. Ma se ne unite due, tre, quattro, dieci, venti, capite che è totalmente diversa la carre... No! No! Porca puttana! Vabbè, non è successo nulla, ok? È resistente il macchinario, attenzione. Non abbiamo perso nulla. Il muretto, basta. È più resistente il corallo che il muretto. Ambigo, devo dire. Però va bene lo stesso. Allora, in teoria ho fatto anche questo. Ragazzi, scopriamo se quello che stiamo facendo funziona oppure no. Ui! Ok, Bobby. Avanti! È effettivamente bello. È piacevole. Immaginate adesso che ce ne fossero tipo dieci di questi macchinari. E così dice la Fiera che non stai trovando un cazzo. Ma così siamo più veloci comunque che minare a mano, se ci pensate. Cioè, senza beacon siamo più veloci così. Allora, posso fare un clock per l'attivazione, ma c'è un problema. Che se poi trovo i diamanti, esplodono. Quindi per quello bisogna farlo a mano. Un clock puoi farlo nel nether, perché tanto gli Anci e Debris non esplodono. Allo stesso tempo, se ne trovi uno lì davanti, si blocca il macchinario. Se trovi un fiume di lava, si blocca il macchinario. C'è un modo di farlo più veloce? Eh no, perché comunque le TNT esplodono questa velocità. Ma il modo migliore per fare più veloce lo scavaggio in generale è ovviamente farne di più. E quindi adesso ne facciamo un altro. Penso che a distanza è sempre a sei blocchi. Io non so quanto possa andare avanti all'infinito qua. Penso... forse bisogna farne diversi. Se ne può fare un altro secondo voi, ragazzi? Perché io ho paura che non si possa. Perché effettivamente è soltanto sto pistone che tira. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici. Cioè se io tipo metto un altro blocco, facciamo questo esperimento. Eh, esatto. No, no, non si può, ok. Tuck! Diamantini dove siete? Però guardate già che tunnel che stiamo facendo. O di lapis che non ci servono, abbiamo detto. Oro? Non ci interessa l'oro. Datemi il diamante! Ragazzi, non sto cercando dei diamanti qualsiasi. Per una challenge mi serve una stack di diamanti, quelli incavati nella pietra, non nella deep slate. Ecco, tipo quello lì è già il primo problema. Eh, sì. Ed è un bel problema questo. Finché non ci va sotto la TNT, ecco questo. Ecco, questo è ciò che non deve accadere assolutamente. Guardali, guardali. Bambini di merda. E boh, ragazzi, andiamo un po'. In teoria non ci dà problemi, perché finché la TNT non sta sott'acqua... Division infinita si fa tranquillamente con una Ressurospa che è chiamata Fulbright. Possiamo stare anche qua, no? No, ecco. Tipo questo non deve accadere. Stiamo già trovando difficoltà con il nostro macchinario, ragazzi. Eh, eh, calma, calma. Ci serve questa. Uno soltanto di questi qua. Ok, grazie. Ok, lui è normale che stia... Non è normale, infatti, dicevo. Si è allagato il macchinario. Niente, si è allagato il macchinario. Alla fine dei conti ha vinto l'acqua, ragazzi. Ha vinto l'acqua, alla fine. Però sto pezzo l'abbiamo passato, quindi possiamo tapparlo. Alla fine l'acqua stava di qua. Ora che lo abbiamo passato, in teoria non dovrebbe crearci più fastidi. Comunque continuiamo un altro po', perché il carbone si trova bene a questa altezza. Perché ho scoperto, a livello ovviamente teorico, poi non ne sono sicuro al 100%, che il carbone è quello nella Deep Slate, che è rarissimo. Lo si trova quando c'è la vena di carbone nella stone. E però si... All'altezza Deep Slate, quindi si unisce con il carbone Deep Slate. Non trovi delle vene di carbone Deep Slate da sole. Eccolo! Questo qua è il carbone che ci serve. E lo vedete sempre con le vene di carbone, queste normali della stone. Peccato che ce ne siano pochissimi. Ah, e qui mi sa che è la fine del macchinario. Ho come questa impressione. È stato bello finché è durato. La scusa per farlo è più in alto. Adesso magari proviamo a farne addirittura di più. Quindi bisogna rifare il macchinario, ragazzi. Un attimo. Doppio slime. Adesso stanno dando un attimo a memoria, ragazzi. Perché dopo sette volte che lo fai perché si rompe, effettivamente impari. Qua ci facciamo la postazione per metterci a sedere. Qua ci dobbiamo mettere un blocco. In realtà questo blocco non serve, anzi. Togliamolo. E slime. Ragazzi, in teoria ho rifatto il macchinario. Oddio! Oddio, ci abbiamo fatto il primo tentativo stavolta. Bene. Olè! Bomba! Comunque sì, a questo punto direi che possiamo fare di più. Facciamone di più, ragazzi. Ovviamente dobbiamo fare i macchinari staccati. Allora, serve questo. Tic. E lo mettiamo qua. Un slime supra. Quest'altra robetta. Qua mettiamo questo dall'altro lato, così. Tac, tac, tac. È così. Un po' lunga la costruzione, ragazzi. Ma poi una volta fatta quella. Due, tre, quattro. Cosa cazzo? No, aspetta! Non era... Vabbè. Ok, bene, ma un attimo. Ok, niente. 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 Oddio. Dei lapis schifosi non ci interessa. Ma non deve essere automatico, ragazzi. Perché se in automatico e poi becco i diamanti, li distruggo. Io voglio semplicemente trovare un diamantino. Cioè, è possibile che tutta sta roba fatta esplodere e non ho trovato un singolo diamante. Ecco, tipo questo mi serve. Diamanti inesistenti, però questo a me non mi serve. Quanti diamanti hai trovato? Sapessi, guarda. Una quantità indescrivibile. Oh, attenzione. Ok, questo bello raro ci serve. Quante possibilità avevo di scavare a cazzo di cane, costruire il macchinario ed entrare nella farm di slime? Quante possibilità avevo? Tra tutti i buchi che si potevano fare, io a caso dall'altra parte dell'isola sono dato proprio dritto al centro della farm... Dai, grazie. Ciao. 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 Grazie a tutti.